E di nuovo buonasera, soprattutto buonasera a Vittorio Feltri, direttore ben ritrovato. Grazie, un saluto a tutti voi. Allora, quel che è successo in Catalogna, quel che è successo a Barcellona, un tuo giudizio su questa vicenda per certi versi è assurda? Sì, anche vergognosa, perché non c'è nulla che possa impedire a un popolo di votare. Se poi è vero che ci sono tante persone ostili all'indipendenza della Catalogna in Catalogna, non c'è motivo di preoccuparsi. Voleva dire che il voto sarebbe stato sfavorevole all'indipendenza stessa e invece si è verificato il contrario. Bisogna sempre consentire il voto, tant'è vero che anche in Inghilterra, alcuni anni fa, non molti, si votò in Scozia che voleva, intendeva, sperava di ottenere l'indipendenza. In realtà vinsero i no, quindi non ci fu nessuna indipendenza. Ma l'Inghilterra non impedì la consultazione popolare, perché l'Inghilterra è un paese democratico per tradizione secolare, mentre la Spagna fino a 30 anni fa era fascista, aveva il franchismo e quindi non hanno l'attitudine mentale all'esercizio democratico. Questo è il problema. Quindi chi ha osteggiato il voto e chi ha mandato la polizia a picchiare gli indipendentisti non sa neanche lontanamente che cosa sia la democrazia e la civiltà. Questa mattina il Re ha buttato benzina sul fuoco e ha sobillato ancora di più i catalani che a questo punto dicono noi proclamiamo l'indipendenza e andiamo avanti. Hanno ragione i catalani, hanno fatto un referendum che ha avuto un esito che tutti noi conosciamo e quindi il Re, poverino, parla a vanvera, parla da franchista, parla da monarca del Settecento e dell'Ottocento quindi siamo di fronte a una regressione democratica spaventosa. Io sono convinto che l'autodeterminazione dei popoli non sia una frase retorica ma deve essere una regola e deve continuare ad esserlo, persino per gli spagnoli. Questo ha riacceso i riflettori anche sul referendum che si celebrerà sia in Veneto che in Lombardia il prossimo 22 ottobre. Si spera dando una mano anche a diffondere quelle che sono le ragioni di questo referendum o no? Ma è esattamente così, solo che l'informazione non ha fatto il proprio dovere, né quella televisiva né quella cartacea. C'è chi pensa che questo referendum che si svolgerà fra una ventina di giorni sia teso a ottenere l'indipendenza ed è una boiata pazzesca. Non è così, non si tratta di indipendenza ma di autonomia. Tra l'altro segnalo che ci sono 5 regioni autonome in Italia per cui se ce ne fossero 6 o 7 non vedo lo scandalo. E in che cosa consiste l'autonomia? Consiste nel trattenere il residuo fiscale, come si chiama, cioè i soldi pagati tramite le tasse dai cittadini non vadano interamente a Roma che poi li gestisce come sappiamo. Ma una parte continuerà a andare a Roma qualora ci fosse l'autonomia, una parte cospicua. Ma una parte non eccessiva rimarrebbe qui nelle regioni che fanno buon uso del denaro pubblico, come si evince anche da Milano. Milano è una città che funziona, una città dove i servizi sono a disposizione dei cittadini e sono efficienti, mentre Roma è riuscita a diventare una catastrofe e ad accumulare un debito di 13 miliardi. Quindi che noi si debbano pagare anche i debiti di Roma, di Napoli e di tutte le altre città del sud che sperperano, che amministrano male è profondamente ingiusto. Noi continueremo a dare dei soldi allo Stato nazionale perché siamo in una patria unita, ma non tutti. Noi non vogliamo più essere rapinati di tutti i nostri averi. Basta, questa è l'autonomia. Noi dobbiamo badare ai servizi per i cittadini lombardi e veneti. E per fare questo abbiamo bisogno di trattenere più soldi. Ma continueremo a darne a Roma perché sappiamo che Roma è affamata e il sud non è capace di uscire dalla miseria. Io l'unico consiglio che posso dare alle regioni povere è di diventare ricche. C'è un solo modo per diventare ricchi. Lavorare e investire in infrastrutture che consentano lo sviluppo dell'economia. Finché non fanno questo resteranno povere, ma noi che cosa centriamo? Ma perché dobbiamo mettere le pezze al culo a chi ce l'ha nudo? In una intervista che ho registrato ieri con il senatore Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia per un lungo periodo e che trasmetterò subito dopo questa tua intervista a te, Formigoni attacca un po' Maroni per questo referendum e dice ma come dieci anni fa stavo trattando io per l'autonomia, mi sono seduto al tavolo, prima con Prodi e poi mi sono seduto con questi di centrodestra, con il governo del quale faceva parte anche la Lega e questa autonomia non me l'hanno voluta fare. E dice in sostanza è un po' la campagna elettorale di Maroni, non dice così ma sintetizzo io. Tu come la vedi? Non è la campagna elettorale di Maroni? No, non è neanche di Zaia che ha chiesto nel 2014 questo referendum e nel 2014 di elezioni non se ne parlava neanche quindi è una balla, è soltanto la prosecuzione di una battaglia, quella per l'autonomia che ha origini antiche che poi Formigoni abbia avuto dei problemi con Maroni o con la Lega di quel tempo non lo posso escludere anzi provarsi che sia vero, ma questo non significa niente perché la Lega è cambiata profondamente quando nell'ultimo periodo c'era Bossi come segretario la Lega era scesa al 3.5% mentre adesso è al 15% vuol dire che è cambiata. Adesso non è che io voglia fare l'apologia di Salvini e di Maroni però sta di fatto che la regione Lombardia funziona molto bene oggi come quando c'era Formigoni peraltro e quindi non vedo perché si debbano trovare dei nei in una battaglia che è sacrosanta come ho cercato di spiegare forse confusamente prima. No, non era confuso, volevo approfittarne anche per lanciare poi l'intervista a Formigoni siccome la vedete diversamente Vittorio, volevo approfittarne per dire che c'è anche chi la pensa diversamente da te ed è bello il confronto di opinioni. No, ma non mi pare che Formigoni la pensi diversamente, scusa no, Formigoni non la pensava diversamente perché se è andato a trattare per l'autonomia vuol dire che era favolevole l'autonomia non capisco perché adesso non lo sia più, forse non avrebbe la pena di chiedere. La divisione è sugli strumenti e poi lì c'è della vecchia ruggine ma lasciamo perdere insomma, lui dice lo strumento del referendum non funziona. Eh ma sono fatti personali. Ma io no, non funziona però se non funziona perché non te lo fanno fare lo boicottano ma se invece in Svizzera fanno un referendum ogni 15 giorni anche se devono chiudere un vicolo non capisco perché in Svizzera funzioni il referendum sia uno strumento democratico e da noi sia una boiata. Ma non è assolutamente vero. Eh insomma cerchiamo di attenerci ai fatti. Senti come sta andando il tuo ultimo libro, chiamiamoli Ladri Mondadori, lo trovate lo trovate ovviamente in libreria appena uscito, come sta andando sto libro? Mi sembra molto bene, no? Sì sta andando bene, tant'è vero che figura nelle classifiche nazionali dei libri più letti quindi significa che tutto sommato non ho fatto un buco nell'acqua. Ecco Fulzio. Speriamo di continuare a vendere. Fulzio. Perché a me non interessa che lo legano il mio libro, mi interessa che lo comprino. Capisci perché i diritti d'autore ce li hai sulle vendite. Ecco no, giustamente. Ecco, l'hai proprio spiegata cruda la cosa, ma io mi permetto di aggiungere che anche io l'ho cominciato, è anche una bella lettura piacevole, la penna del direttore Feltri scorre via veloce, avete letto una roba che vi fa incazzare dopo ma vi lascia dentro qualcosa. Vendi un po' anche la merce, non solo il prezzo di copertina. Eh beh, ma sai, io non sono ipocrita, sono contento che venga letto perché per leggerlo bisogna comprarlo, questo sicuramente, ma se poi qualcuno non lo legge, lo mette sul comodino e rimanda la lettura domani sera, poi ancora domani sera, domani sera, non è che mi straccio le vesti, tanto i diritti li prendo lo stesso. Fantastico, beata sta chiarezza qua, allora, perché in realtà no, tutti quelli che fanno libri, che vendono giornali, cioè tutti quelli che fanno qualcosa che poi l'altro deve comprare, pensano sta roba qua, però te la condiscono via con delle parole e ti prendono per il culo, tu vai subito al sodo, compratelo che guadagno. Sì, ecco, anche perché io non voglio, diciamo, arrivare a ottenere la gloria, a me basta arrivare alla fine del mese. Che mi sembra un bel obiettivo e in questo mi sei stato maestro, va bene. Senti Vittorio, ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi velocissimi andiamo alla seconda, alla seconda, no, questo è il fondamento, è l'abc della vita questo che ha detto Fettri, ragazzi, inutile che facciamo tanto i santi, è l'abc della vita, fine, pubblicità è a tra poco. Una decina di minuti e poi lascio andare il direttore Vittorio Feltri, è stata una lunga giornata, le giornate di Feltri cominciano la mattina presto e finiscono la sera tardi, deve fare il giornale, deve fare mille cose e quindi lo devo lasciare andare anche a riposare. Allora, i partiti in bolletta si daranno al furto, tu commenti così. Mi devo anche grattare le palle. Eh? Che dici? Mi devo anche grattare un po' le palle. Ma sì, non so quando perché sei sempre lì che lavori, ma comunque va bene, lo farai in momenti che non so. Allora, no, dicevi, dicevo l'altro giorno hai titolato una roba bella semplice perché c'è stata l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, quindi sono calate del 61% le entrate di questi signori qua che avevano partiti in movimenti, che hanno partiti in movimenti che però devono campare e tu fai un titolo bello chiaro, i partiti in bolletta si daranno al furto, cioè i soldi se li fregheranno. Sì, certo, ma diciamo che una certa attitudine per il furto l'hanno sempre avuta molti politici, adesso diventa anche una necessità perché non incassando più un soldo e siccome i partiti costano, ecco che ci sarà qualcuno che comincerà a sgraffignare per consentire ai partiti stessi di campare, di tirare avanti. Quindi non mi è sembrata una bella iniziativa quella di togliere quasi completamente il finanziamento pubblico. Andava ridotto quello senz'altro perché prima era spaventosamente alto, ma toglierlo del tutto significa incentivare i latrocini, questa è una cosa sbagliatissima. E lo vedremo poi nel corso degli anni, le varie inchieste, cosa tireranno fuori, finiremo così, perché è una previsione facile ma purtroppo va fatta perché nella sua drammaticità questi devono in qualche modo sostenersi. Allora, il nuovo leader... Scusa, c'è un altro... Sì, 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 dimmi, dimmi, dimmi. No, diciamo c'è un altro problema, è che si continua a parlare di introdurre di nuovo le preferenze per chi va a votare, come era una volta, tu sceglievi un nome, mettevi la crocetta lì e quindi quel signore prendeva il tuo voto, ma se ne prendeva tanti e andava in Parlamento. Invece le preferenze non in nessun paese europeo si usano, per fortuna, perché si è capito che le preferenze sono fonte di corruzione, perché tu per avere i voti prometti, dai, il famoso voto di scambio diventa una consuetudine e poi per poter comprare i voti è chiaro che uno ruba. Allora, se noi non siamo prudenti e introduciamo queste forme che agevolano il furto, siamo dei deficienti. Ecco, detta chiara anche questa. Il nuovo leader o il leader eletto, proclamato, non so più, dei 5 Stelle, Di Maio, attacca duramente i sindacati, si autoriformino perché così non va o ci pensiamo noi. Io credo che tu condivida questa impostazione di Di Maio o no? Io penso che i sindacati debbano rinnovarsi perché ormai non riflettono più la realtà del paese, tant'è vero che le iscrizioni ai sindacati sono diminuite, in sostanza i lavoratori non si fidano più nei sindacati perché i sindacati non fanno i loro interessi, cioè gli interessi degli iscritti. Questo è pacifico. Però che sia Di Maio che debba anche occuparsi dei sindacati che sono dei soggetti privati, questo è un errore profondo. E mi viene da dire che se Di Maio è il migliore, è stato scelto come candidato a premio, il migliore dei 5 Stelle, figuriamoci gli altri. Ecco, io non ho capito una cosa. Di Maio e comunque questi dei 5 Stelle che non hanno avuto una grande esperienza di lavoro, se si tolgono le aule parlamentari e i comizi tra la gente. Insomma, quelli che più o meno, più in generale, senza riferirmi a Di Maio, quelli che non hanno mai lavorato dicono come devono comportarsi i sindacati che stando a quello che dici anche tu e stando anche alla realtà dei fatti non hanno mai lavorato. Cioè è uno scontro sul lavoro tra gente che non ha mai lavorato? Funziona così in Italia? Infatti, è esattamente così, perché i sindacalisti, sappiamo che fanno i sindacalisti perché non hanno voglia di lavorare, altrimenti lavorerebbero. E quelli del Movimento 5 Stelle hanno trovato nella seggiola parlamentare il modo per tirare a casa un po' di soldi per qualche anno e poi si sono dati anche il limite di due mandati per cui tra poco dovranno per forza di cose o andare a mangiare alla Caritas oppure mettersi a lavorare. Ma io credo invece che c'è anche una terza strada che tu non hai ricordato, fanno le deroghe al limite di due mandati e così continuano a stare in Parlamento. Lo fanno sempre, no? Mettono là, eh? Devono modificare, però devono modificare il loro regolamento che per il momento dice che più di due mandati non si possono fare. Allora, se poi il regolamento è un elastico che sia adatta a qualsiasi situazione, va bene, questo è un altro discorso e confermerà che anche i 5 Stelle sono un partito del cacchio come gli altri. Senti Vittorio, hai voglia di scrivere libri? Alla fine a lavorare siamo rimasti in pochi in questo Paese e dobbiamo pagare questi qua che non lavorano, pagare le pensioni e in più pare che, lo dici anche tu, sia in vista un nuovo assalto alle pensioni. Padovan scrive all'Unione Europea e dice, voi, qui serve un'altra fornero, addirittura a sto punto siamo arrivati. Sì, sì. Però ho visto stamattina un titolo del giornale che dice appunto che bisognerà andare in pensione a 70 anni, ma dal 2051, cioè fra 30 anni, se non faccio male i calcoli. E io penso che fra 30 anni sarò al cimitero per cui me ne sbatto le palle di questo provvedimento. Però Vittorio, con sto cazzo di cimitero che evochi ogni volta ti allunghi la vita, perché non è che posso sentirti ogni volta parlare dei cimiteri. E mica sono scemo, ne parlo apposta, ne parlo apposta, ne parlo apposta per allungare la mia permanenza su questa terra. Però è vero, scusami, ma a te te ne frega qualcosa di quello che succederà fra 30 anni? No, 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 non me ne frega già più, non me ne frega già più. Non me ne frega più, anch'io devo arrivare alla fine del mese, è l'unico pensiero. E poi guarda, io continuo a lavorare nonostante l'età per un motivo molto semplice. Ancora, scusami, fermati un attimo. Vittorio, no, basta con sta storia dell'età. Basta con sta storia dell'età e continui a dire... No, fammi finire, fammi finire il discorso, che è un discorso saggio, vedrai. Io lavoro non perché abbia bisogno di soldi, perché grazie al cielo potrei vivere tranquillamente, però mi terrorizza l'idea di stare a casa con mia moglie tutto il giorno, perché io vado d'accordissimo con mia moglie perché la vedo poco, ma se dovessi stare tutto il giorno con lei, credo che potremmo anche litigare, non solo, ma io mi immagino anche il dolore che proverei, andandola a essere lunga col carrello, a riempirlo di prodotti che mia moglie mi ordina di comprare, magari scrivendo la lista su un foglio di carta, poi io mi sbaglio la marca del latte, questa si incazza, succedono delle cose spiacevolissime. Io voglio lavorare perché lavorare è più divertente che stare a casa. Va bene, Vittorio, abbiamo concluso il nostro tempo e ti ringrazio, il tempo della trasmissione che se no andiamo ai cimiteri dove non vogliamo finire. Allora, è finito il nostro tempo, ci vediamo la prossima settimana. Grazie direttore, buona serata, buonanotte. Ok, auguri a tutti, grazie a voi. Va bene, grazie. Allora, io come vi dicevo, ringrazio il direttore Feltri, oggi era particolarmente in forma, io come vi dicevo vi propongo un'intervista a Formigoni tratta dalla mia trasmissione Siamo Italiani che va in onda tutti i martedì e il giovedì sul canale 62 dalle 23. In questa intervista Formigoni attacca un po' Maroni e il suo referendum, ma non c'è solo Formigoni e queste robe qua dentro alla mia trasmissione, c'è molto altro, quindi sintonizzatevi il martedì e il giovedì sul canale 62 che è 69-7, 69 come quella roba lì, 7 come i giorni della settimana, fa 62 dove c'è anche Top Calcio. Grazie e ci vediamo con Formigoni dopo la pubblicità. Grazie a tutti.